Di Marino e Pupitone, Cava di R6, Amici del Cambello 4, allora la parte degli sconfitti, Giuliano, quanto ha pesato l'assenza di quel bastardo di Caporusso, si può dire? Vabbè Caporusso è pesata molto l'assenza, non lo conosco questo Caporusso, quindi non so quanto avrebbe potuto influire. Però va a peso? Però va a peso, sì, un giocatore in meno effettivamente, però comunque ci rifaremo al ritorno. Quindi si può ancora fare? No, no, è fatta. È fatta? Allora dall'altra parte invece di Marino, una soddisfazione, comunque sia a 4 all'andata. Sì, una soddisfazione, anche con l'uomo in più, però... Però ci sta. Ci sta e la partita è ancora aperta per il ritorno. Certo, aperta. Non dobbiamo abbassare la guardia, sono avversari molto forti, ci hanno battuto entrambe le volte alla regular season, quindi dobbiamo starci attenti. Quindi molta attenzione al ritorno, 6 contro 6 sarà un'altra storia, insomma. Magari cercheremo di prendere meno gol, oggi abbiamo preso molti gol stupidi, si potevano evitare sicuramente. Va bene, grazie ragazzi.